ciao amici amiche kia continuiamo continuiamo marco drums games original così lo dico original perché ubisoft original e tante altre cose sono original quindi anche marco drums è original è un gioco molto 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 bello lo potete scaricare se avete playstation plus extra o premium credo credo di sì allora una nocce di cocco allora fai paa ok il tuo padre sul molto bello ma dov'è è la lo vedo lo vedo arrivo papi sto portando la nocce buona lanciata ah e lo chù tu guardi beh calo yacetire Grazie a tutti. 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 Oh, ma che è questo qua? Che è questo qua? Oh. 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 Rikin! Grazie a tutti. Oh, è successa una cosa incredibile. L'hanno portato via il nostro papino Papotto. Oh, è successa una cosa incredibile. No, in realtà non volevo che forse un'altra. No, in realtà vorrei dormire ancora. No, dai, buongiorno. Andiamo via. Allora, le perle. Allora. 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 Gucchi! Allora. Allora. Io credo che questa roba che lui vuole... Perle. Oh, che sarà un suo tacco? Oh, eccola lì. Sì, ma... Oh, oh, oh. Vieni. Sì, c'è. Caspita! Caspita! Fumata! Bravissima, bravissima. Su, 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 su. Subiti, su, su. Ci metti tantissimo tempo a salire. Restira. Superi, un gelo. Hi! Grazie. Ok, la musica! Ok, la musica. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Bellissima ragazzi, bellissima, bellissima. Ah, ok. 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 Bellissimo amici. Questa cosa è impossibile. Impossibile per Marco Graffin. Ce l'ho sempre provato, ma è impossibile. Questa cosa è impossibile. Questa cosa è impossibile. Ah, è un disastro ragazzi. Ma... che è un'altra cosa è impossibile. E' un altro ragazzo. E' un altro ragazzo. Ah, ok. E' un altro ragazzo. Sì, sì. allora melodie dell'anima fammi fammi suonare le melodie no no basta voglio suonare le melodie ecco qua la forse ma io volevo suonare le melodie incredibili bella ah il banding va bene una grandissima melodia una melodia non mangiamo l'ultimo piatto è stata la stessa sbomba oh buongiorno buongiorno raga allora possiamo fare questo ok bellissimo ho rischiato che bello che tu non è che mi dai una mano eh dai dai caramba eeeh va fuori dai eeeh 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 però ce l'ho fatta scusate ragazzi si sente un po' di casino ma c'è al vicino che sta tagliando gli alberi forci proprio vaiiii beach eeeh 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 fool del biar aaaah come si è un po' come si è un po' come si è un po' Allora dormiamo un po' perché probabilmente non è giorno per lui, credo, a questo punto da sera. Noi dormiamo due o tre volte e vediamo cosa succede, ho detto di stare qua stanotte, probabilmente è il giorno dopo che andiamo, dormi ancora, ma dormi, continui a dormire, vai tranquillo. Ho qua il giorno eh. Mangiamo e andiamo. Prova il bilanciamento rocce, quindi lui sta dicendo ancora di bilanciare le rocce, un'altra volta e li lanciamo queste rocce. Sì vabbè ma dipende anche dal sasso che ti da perché... che sasso ho mai dato all'inizio? Che cosa potrei fare io così? C'è capito ragazzi? E' andato questo qui. No, infatti era partito malissimo. No. Capito eh. Dai, ma si sta la quella. Non guarda. Quasi, che non c'è che cosa di spiegare? Quasi, le mettere non c'è bene. Ah, qua. Quasi, che cosa è la tua? Quasi, che lo spiegare? Quasi, che cosa vuole? imposta l'ora su mezzanotte ma come faccio imposta l'ora su mezzanotte? perché fatti così? come faccio imposta l'ora a mezzanotte? cambia, mangia, dorme! ora devo dormire ancora? andare di notte per stannare con l'ukulele o per andare lì a fare il... ok... per fare il... no, non voglio il suono libero, voglio stannare l'ukulele ho sbagliato? ho sbagliato? ho sbagliato? allora, Alba dormi? perfetto, bisogna fare quello che dice lui raga ok, andiamocene ok, andiamocene ci ulici ci ulici Grazie a tutti. 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 Mamma che rumore so oggi... Non c'è questa roba... È da sopra, secondo me. Come faccio adesso... Ah, bellissimo... Bellissimo... Qui ci sono i negozi... Cos'è? Cos'è... Questa per mangiare... Grande... Oh, grazie a tutti. Non c'è... Ah, ok... Si può dare un... Si può dare un... Si può dare un... Andare sulla mappa... E... E mettere un segnale... Però... E' la sopra... E' la sopra dove devo andare... Dobbiamo cercare... Una strada qualcosa... Un... E' la sopra... E' la sopra... E' la sopra... ok 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 forse ci siamo raga numero 9 9, per le 9 9, s'il vous plait qu'est ce que vous voulez ? je dois parler à mes Vora remplissez ça parfait, voilà, c'est la liste des offrandes pour obtenir un entretien attendez, quoi ? si vous voulez parler à mes Vora, on va voir la coutume, c'est la tradition allez, tata félicitations, restez s'il vous plait nooo che fortuna lui, che sfortuna noi allora dormiamo al Falos io direi per questo episodio tutto panoramico però eh ? Allora il punto panoramico Sì dovrebbe essere di qui Vediamo se c'è Se è fattibile Sarà sopra? Qui? Ma lei non ce la fa? Sì c'è la spaggia Sarebbe quel palazzo lì? Eh ma... non ce la facciamo! Vediamo se riusciamo ad andare su di qua, non lo so eh! Vediamo, vediamo, vediamo! Sì, grandissima, che può riposarsi dentro lì, grandissima lei! Così possiamo almeno salire perché se no non era praticamente impossibile, non avevamo modo di salire fino qua sopra. E l'altra? Dov'è che è? Aspetta eh, io sono qui... Poligono... Un molo... Qui ci serve l'altro... Qui ci serve l'altro? Oh... Di serio? Seria! Scusami! Nooo... Scusami! Ciao! Ah... Barca, viaggio spontaneo, bello, il molo funziona bene! Io volevo andare al falò per dormire così ci vediamo alla prossima, ma qui sta diventando... Buono, grazie! Buono, grazie! Buono, grazie! Bene, grazie! C'è la porta? Buono, grazie! Vedi? Buono, grazie! si anche io vorrei avvicinarmi o farò capire dov'è anche se è molto 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 bello è molto bello devono riuscire a capire dove ecco qui, oh, attenzione ah, qua c'è il poligorozzo di tiro oh e vai dai, capire bronzo ci dobbiamo abituare un po' al poligonozzo di tiro ma qui sta diventando notte forse è qui dai, forse è lì eh, non so se è capace di nuotare forse forse dobbiamo andare a nuoto però se qui è un probabile falò qui non vedo falò è buio, eh io credo che lei riesca allontanare devo andare a dormire e noi ci vediamo al prossimo episodio di Kia su il canale di Marco Drums Games quindi vi aspetto amici e amiche molto, molto bello questo gioco molto rilassante in realtà avevo appena mangiato però ha, ha, bellissimo dai, dormiamo e ci vediamo al prossimo episodio di Kia Marco Drums Games questa è la parte 2 andremo a fare la parte 3 qui in città bello bello, 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 bello ok, salviamo la partitozza capitolo 1 torniamo al menu principale e noi ci vediamo col prossimo episodio Marco Drums Games Channel vi saluta vi ringrazio vi aspetto al prossimo episodio iscrivetevi al canale un bel commento un mi piace è gradito ciao a tutti gli amici e amiche da Marco Drums Games Channel è tutto grazie a tutti